Ciao ragazzi, oggi è il 30 gennaio 2020 ed è l'ultimo giovedì del mese di gennaio e come da tradizione qui in Brianza si festeggia, si celebra una festa popolare, una festa di tradizione, ossia il rogo della Giubbiana. Andiamo a vederla. Il corteo parte dal simbolo di Alzate Brianza, ossia la torre medievale. Secondo la tradizione rappresentata in questa rivocazione storica, la castellana viene condannata al rogo a seguito di un alto tradimento nei confronti della città in un lontano passato. Questa sentenza viene simbolicamente ricordata ogni anno nella serata dell'ultimo giovedì di gennaio. Da tradizione inoltre si mangia anche il risotto con la salsiccia e l'imbrulè. Le leggende sulla Giubbiana sono molte e davvero curiose. Nella descrizione ve ne rinco alcune. La proloco in collaborazione con i bambini del paese ha fatto loro disegnare un cattivo pensiero per poi metterlo al rogo insieme alla Giubbiana per scacciarlo simbolicamente. Una celebrazione che conserva le tradizioni, grazie appunto anche alla proloco di Alzate Brianza che riesce a riunire i cittadini e i nonne per partecipare appunto a queste tradizioni che non dovrebbero mai essere dimenticati. Io vi ringrazio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!